Dal Vangelo secondo Matteo In quel tempo, avendo udito della morte di Giovanni Battista, Gesù partì di là su una barca e si ritirò in un luogo deserto in disparte. Ma le folle, avendolo saputo, lo seguirono a piedi dalle città. Sceso dalla barca, egli vide una grande folla, sentì compassione per loro e guarì i loro malati. Sul far della sera, gli si avvicinarono i discepoli e gli dissero, il luogo è deserto ed è ormai tardi, congeda la folla perché vada nei villaggi a comprarsi da mangiare. Ma Gesù disse loro, non occorre che vadano, voi stessi date loro da mangiare. Gli risposero, qui non abbiamo altro che cinque pani e due pesci. Ed egli disse, portatemeli qui. E dopo aver ordinato alla folla di sedersi sull'erba, prese i cinque pani e i due pesci. Alzò gli occhi al cielo, recitò la benedizione, spezzò i pani e li diede ai discepoli, e i discepoli alla folla. Tutti mangiarono a sazietà e portarono via i pezzi avanzati, dodici ceste piene. Quelli che avevano mangiato erano circa cinquemila uomini, senza contare le donne e i bambini. Carissimi fratelli e sorelle, siamo giunti alla diciottesima domenica del tempo ordinario. Siamo nel cuore dell'estate e mentre siamo tutti o quasi in vacanza, Gesù ci propone il Vangelo della compassione di Dio. È quasi una provocazione. E lì viene a dirci che anche in questo tempo di riposo non dobbiamo dimenticarci degli altri, di quelli che abbiamo lasciato a casa. Non dobbiamo dimenticarci dei poveri, soprattutto. Perché come Egli ha compassione per l'uomo, così anche noi che siamo discepoli dobbiamo vivere lo stesso sentimento nei confronti degli altri. La parola compassione l'abbiamo incontrata tante volte, continuiamo ad incontrarla grazie anche al Magistero di Papa Francesco. Ne abbiamo parlato diffusamente durante l'Anno della Misericordia. E abbiamo detto che questa parola, nella sua accezione ebraica, ci ricorda ci ricorda ciò che la mamma avverte dentro di sé quando sente il suo bambino piangere. E poi il gesto che segue. Ella prende il bambino, lo avvicina al suo seno e lo allatta. Ecco, Dio che è Padre prova verso di noi questo sentimento, avverte dentro di sé un moto, per cui è irresistibile per Lui non usarci misericordia, non provare verso di noi compassione. E Gesù che ci rivela il volto del Padre, ecco, è come Dio, avverte compassione abbiamo ascoltato nel Vangelo al vedere quella folla ormai sfinita, affamata, che da giorni è alla sua sequela. e con un gesto di benedizione egli sfama la folla. Aveva poco a disposizione. Aveva cinque pani e due pesci. Ma egli si accorge delle nostre esigenze e riesce a sfamare tutta quella folla così numerosa. Si fa aiutare però dai discepoli, dai suoi apostoli. Ne avanzano dodici ceste. Come dodici sono gli apostoli. Cioè noi, la Chiesa oggi, la sua sposa, noi siamo le sue braccia. Abbiamo il compito di sfamare gli altri, di usare misericordia, compassione, nei confronti degli altri. E allora, carissimi fratelli, viviamo questo tempo come il tempo della carità. Se possiamo, facciamo anche in questo tempo un po' di carità. Ricordiamoci degli altri, visitiamo gli ammalati, ma soprattutto perdoniamoci a vicenda. Amiamoci di vero cuore gli uni gli altri.